Progettato nel 1532 da Antonio Sangallo e terminato da Luca Sangallo nel 1552 per proteggere la città dagli sbarchi dei corsari saraceni sotto Papa Giulio III, il bastione Sangallo è uno dei monumenti più importanti della città di Fano, un poderoso baluardo che durante il Rinascimento completò la cerchia delle mura cittadine con funzione di controllo da una parte sul porto e dall'altra verso la costa che giunge fino al fiume Metauro ed oltre. Già oggetto di restauro dall'equip dell'architetto Cuppini nei primi anni del 2000, il bastione è oggi oggetto di un nuovo progetto che è stato presentato dal sindaco Massimo Seri insieme alle assessori ai lavori pubblici Barbara Brunori e alla cultura Cora Fattori. Si tratta di un progetto che tende di essere finanziato per aumentare la fruibilità pubblica del monumento. Stà in una visione che abbiamo sempre avuto, quella di rigenerare, riqualificare, rivalorizzare, portare valore aggiunto che abbia anche una caduta economica e di valore della nostra città. Con questo intervento si va ad ampliare la possibilità di contenere persone dentro, migliorare la qualità degli eventi che si possono organizzare ma anche offrire al visitatore, a coloro che vogliono andarci, anche cosa ha rappresentato il bastione Sangallo nelle sue parti che oggi sono altrimenti divise. Quindi è un bel progetto, ovviamente ci candidiamo ad un progetto della regione ma siamo molto convinti che potrà avere un buon esito. Ma ripeto, l'elemento vero è il valore aggiunto che porta alla città che diventa sempre più bella. È un progetto che renderà accessibile questo bene in tutta la sua estensione e quindi farà entrare tanta gente perché la capacità a questo punto potrà aumentare a 350 persone. È un progetto che abbatterà tutte quelle che sono le barriere architettoniche. Abbiamo anche previsto un nuovo elemento a scala esterno che appunto farà vedere questo bene dall'alto in tutta la sua bellezza e che sicuramente ci permetterà di poterlo veramente funzionalizzare in tutto il suo insieme. C'è anche una terza via di fuga che consente appunto questo ampliamento delle persone con questa torre che ricorda un po' le torre d'assedio medievali. Sì esattamente. Quando si parla di rifunzionalizzazione è anche proprio nel rispetto di quello che è l'elemento storico quindi di quello che sono tutte le dinamiche per cui il bene è nato. È una fortezza e quindi questa via di fuga, questa via di uscita servirà non solo per uscire dal bene ma anche per accederci perché si potrà appunto ammirare tutto il bene dall'alto in tutte le sue parti su più livelli. Viene valorizzato il centro storico ma vengono valorizzati gli spazi della cultura perché ricordiamoci che la cultura è quello che definisce chi sei, che ti arricchisce e ha bisogno di spazi e il bastione Sangallo si innesta proprio in questo progetto. Abbiamo bisogno di valorizzare gli spazi della cultura e questo progetto da 570 mila euro va proprio in questa direzione. E ci sono anche altri canali per quanto riguarda i finanziamenti? Sì, noi stiamo partecipando al bando della regione ma la cosa curiosa e che mi dà grande soddisfazione è che il progetto definitivo potrà andare avanti grazie alle risorse ritrovate dove? Indovinate un po', dal GSE. Quindi le risorse che siamo riusciti a trovare grazie all'efficientamento energetico del tetto della Poderino ci serviranno per migliorare questo importante spazio della cultura. Vediamo che cultura e ambiente vanno a braccetto.